Politecnico ha creato appena un nuovo centro che si chiama Politobio LabMed che lavora su tre principali ambiti. Uno riguarda le nuove tecnologie nelle ICT, uno riguarda invece quello che abbiamo chiamato innovazione in biomeccanica integrativa e l'altro riguarda invece tutto il tema delle nanotecnologie della medicina rigenerativa sostanzialmente. In ambito cardiologico lavoriamo su tecniche di diagnostica avanzata utilizzando la combinazione tra dati clinici e simulazione in silico con la fluidodinamica computazionale ma stiamo anche pensando allo sviluppo di nuovi dispositivi per la chirurgia mini-invasiva per cutanea sia per il trattamento delle disfunzioni della valvola mitrale che per le disfunzioni della valvola ortica. Il costo dell'innovazione tecnologica nella sanità è variabile. Esistono alcuni campi in cui sono convinto si possa fare molto a costo zero praticamente nel senso che esistono tecnologie tipicamente nel campo dell'ICT largamente disponibili in altri settori che già sono state inserite e quindi si tratta semplicemente di trasmetterle con piccole complicazioni in più in sanità. Altri campi invece richiedono lo sviluppo di device complicati, penso ad esempio in campo cardiologico e cardiochirurgico alla valvola mitrale impiantata per via per cutanea, lì è chiaro che invece servono grossi investimenti e quindi sono terapie che saranno costose e solo sui grandi numeri si potrà pensare di recuperare gli investimenti. Il sogno per il futuro ne abbiamo molti però sicuramente quello più vicino è evitare a tantissime persone il permanere in ospedale quindi poter fare molte delle cose che oggi facciamo recandoci in ospedale poterle fare a casa e fare sostanzialmente una medicina preventiva prima che curativa nel senso che con una serie di sensori ci si possa essere seguiti in continuo senza bisogno diciamo di intervenire quando il fatto è già successo ma a livello appunto come dicevo preventivo.